Ben trovati su PS Prevenzione e Sicurezza con il vostro architetto Mariangela Romaniello. Oggi continuiamo a parlare di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici. Ricordo brevemente che è una polizia assicurativa contro gli infortuni domestici obbligatoria per chiunque impieghi le proprie energie in maniera abituale, esclusiva e gratuita nell'ambito domestico. L'obbligo di iscriversi sorge nel momento in cui la persona matura i requisiti assicurativi, e cioè la maggiore età, quindi 18 anni, e dal gennaio 2019 fino a 67 anni di età senza vingoli di subordinazione. Il costo annuale dell'assicurazione, detto premio, non frazionabile su base mensile e deducibile ai fini fiscali, a decorrere dal 2019 è pari a 24 euro annui. Per iscriversi è necessario pagare il premio. Il pagamento può essere effettuato presso gli uffici postali, presso gli sportelli bancari e attraverso il sito INAIL, accedendo ai servizi online. Al fine di permettere l'identificazione del pagamento è necessario precisare esattamente il codice fiscale, il nome e il cognome della casalinga o casalingo che vuole iscriversi e l'anno per il quale si intende pagare il premio. La legge prevede l'applicazione di sanzioni graduare in relazione al periodo di inadempimento. Ovviamente se ci si trova nella condizione di doversi assicurare e non lo si fa, la legge applica una sanzione pare più o meno al monte premio annuale. In caso di infortunio domestico occorre rivolgersi, secondo la necessità e secondo anche la gravità del danno, ad una struttura ospedaliera o ad un proprio medico di famiglia, precisando che si tratta di infortunio domestico. Ovviamente questo perché poi in quell'occasione bisogna poi compilare dei moduli per attivare l'assicurazione. La tutela assicurativa è ovviamente esclusivamente legata al lavoro che viene svolto in ambito domestico e deve essere appunto nella locazione domestica dove si svolgono appunto le faccende. Ma la legge prevede anche che sono comprese le pertinenze, vale a dire le soffitte, le cantine, i garage, i terrazzi, i balconi e in caso di condomini anche appunto terrazzi, scale o androni. Si ha diritto di risarcimento solo se l'invalidità permanente è pari al 16%, questo dal 2019 perché fino al 2018 era il 27%. Si ha altri sì diritto ad una indennità, una tandem dei 300 euro se si ha un'inabilità accertata dal 6% al 15%. Al decorrere dal 2016 è compreso nella tutela assicurativa anche il rischio morte. La rendita oscilla da un minimo di 106 euro circa mensili per una percentuale di invalidità accertata del 16% ad un massimo di 1290 circa per un'invalidità accertata per il massimo del 100%. Questa viene erogata, abbiamo detto, mensilmente e dal primo giorno di guarigione clinica. Bene, con questo io concludo, vi lascio dandovi appuntamento a giovedì prossimo sempre sulla Nuova TV. Arrivederci. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.